La Iesina ha scelto Matteo Federici per segnare tanti gol quest'anno? Sicuramente ce la metterò tutta, sono venuto qui perché mi ha voluto il mister, la società, spero di dare il massimo, poi i gol verranno da sé. Che ambiente hai trovato al tuo arrivo? Io ho già parlato bene diversi giocatori che erano qui l'anno scorso, ad esempio Peppe Negro che ha un bel rapporto con lui, ci ha giocato insieme, mi ha sempre parlato bene e io con entusiasmo ho scelto Iesi. Peppe Negro lo salutiamo, sappiamo che Iesi si è trovato molto bene, sicuramente ti avrà parlato bene di noi, ma adesso avete iniziato la preparazione da poco, oggi è la prima uscita, la prima amichevole, come sta andando? La preparazione come si sa è abbastanza dura, stiamo correndo parecchio, stiamo facendo forza per cui il pomeriggio siamo un po' più stanchi, stamattina abbiamo fatto un po' di meno, oggi abbiamo fatto la partita, stavamo un po' sulle gambe però come prima volta diciamo abbastanza bene. E le tue precedenti esperienze? Io ho girato un po' per l'Italia, come tutti noi calciatori, un po' in Sicilia, un po' in Sardegna, in Toscana, qui nelle Marche per amore, perché mia moglie gioca ad Ancona, per cui sono un paio di anni, questo è il secondo anno che siamo qui e siamo molto bene comunque. Ok.